Buonasera a tutti, io sono Mattia Ferraresi, sono il caporedattore di domani, invito a raggiungermi qui sul palco, anche se forse mi sto sedendo alla parte sbagliata, Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per gli affari europei. Forse ho sbagliato, ma ormai è così, ho rotto il protocollo. Eccoci qua, benvenuto intanto, molto felice di averla qui. Molto felice di essere a Parma, città meravigliosa. Ottimo, entriamo subito nella discussione, direi di partire dall'Europa evidentemente perché questo è il grande tema del nostro tempo e di questo tempo in particolare, il tema che è sulla sua scrivania tutti i giorni. L'Europa alla ricerca di autonomia strategica, soprattutto direi di diventare un soggetto politico che spesso non è stato. Io ricordo che lei qualche mese fa ha detto in un'intervista che non è deluso dall'Europa, ma è inappagato, ha usato questo termine, rispetto ai progressi che l'Unione Europea dovrebbe fare. Come va l'appagamento dopo questi qualche mese? No, io ho usato il famoso stay angry, nel senso che l'Europa che cos'è? È un'alleanza di 27 paesi che negozia, trova equilibri, fa delle scelte e nell'ultimo anno, dopo la tragedia che stiamo vivendo, su cui piano piano stiamo venendo fuori del SARS-CoV-19, due grandi imprese collettive le abbiamo segnate. Una è quella della campagna vaccinale, siamo arrivati a una media oltre il 75%, l'Italia è nella parte alta della classifica, altri paesi europei dobbiamo aiutarli e soprattutto siamo stati bravi a costruire una coalizione per esportare i vaccini, perché la solidarietà è tutto. E questa è stata un'impresa che l'abbiamo fatta insieme, nei trattati europei la sanità è solo un elemento di coordinamento, invece noi abbiamo messo i soldi, abbiamo messo ricerca, abbiamo costruito una struttura e addirittura lanceremo adesso la sanità europea con un'agenzia apposita. La seconda coalizione che ha portato a grandi risultati è quella del famoso next generation, per la prima volta abbiamo tirato su un fondo a 750 miliardi con dei bond, che era il tabù storico dell'Europa, non si poteva fare titoli di debito per investire nella ripresa economica. Quindi queste due scelte dovute essenzialmente alla tragedia del SARS-CoV-19 ci hanno permesso di dimostrare che l'Europa quando si muove regge, ma tante cose ancora bisogna farle, inappagato per questo, potrei fare un elenco veloce, immigrazione, dumping fiscale, cioè squilibri della fiscalità interna ai paesi europei, questioni anche della politica estera comune, quest'estate abbiamo vissuto il disarmo morale dell'Afghanistan come europei senza reagire e potrei citare ancora politiche espansive che dovremo costruire nei prossimi anni perché sulla ricerca e sviluppo siamo piccolini rispetto ai due competitor Stati Uniti e Cina, dobbiamo investire su tecnologia, la sostenibilità costerà tante risorse, oltre quelle che investiamo per il next generation e con il bilancio nazionale e poi si aprirà, grazie anche alla forza del commissario Paolo Gentiloni, una riflessione sulla riforma del patto di stabilità e crescita, perché lo sappiamo, lo sapevamo già prima del Covid, quel patto non regge più. Insomma, inappagato perché io penso che l'Europa in questa competizione globale, con le turbolenze, con i problemi, possa fare tante cose e quindi mai sedersi in maniera rilassata, ma spingere sempre per nuovi negoziati e nuovi accordi. Il tema del debito rimarrà sullo sfondo, c'è uno scenario in cui next generation diventa un'iniezione episodica e non un cambiamento strutturale e poi si ritorna al gioco di prima? Lei tocca un punto essenziale, secondo me, che spesso non viene analizzato dalle classi dirigenti politiche italiane, almeno quelle lì che fanno dibattito vario pinto dalla legge elettorale fino a altri temi che riguardano poco il futuro del nostro Paese. Io credo che ci sia un tema e lo dico così. Noi abbiamo fatto una scelta, una grande politica espansiva con next generation, sospeso le procedure del patto di stabilità fino al 2022, ma poi nel 2023 anche tutta la spinta della BCE che è stata enorme, che è stata in allineamento con la Commissione e il Consiglio europeo, è evidente che uscendo dalla crisi sanitaria potrebbe terminare. Ora un Paese, una classe dirigente politica che guarda questo scenario deve fare secondo me due cose, essere inappagata a livello europeo, cioè continuare a riformare la nostra alleanza e allo stesso tempo guardare al nostro Paese in maniera un po' più seria e pragmatica. Insomma, il next generation, il PNRR, che ha poi questo nome che veramente a volte è un po' sconclusionato, è una grande missione politica nazionale. L'utilizzo di queste risorse, le 205 miliardi del next generation più i 100 miliardi dei fondi europei che nei prossimi sette anni utilizzeremo, non sono un patrimonio del governo Draghi, sono un patrimonio del Paese e ci serviranno per sanare le ferite, soprattutto quelle generazionali, di genere, abbiamo un'occupazione femminile 10 punti sotto la media europea, abbiamo divari territoriali tra nord e sud, ma ci serviranno anche per impostare un'economia per i prossimi anni, perché quest'anno cresceremo al 6%, ma se la crescita non si struttererà in alto, cioè stabile per i prossimi anni, è evidente che quando la BCE e quando ritorneremo con regole non più emergenziali, un Paese potrebbe come il nostro potrebbe, non dico trovarsi in difficoltà, ma tornare a delle logiche di politiche espansive un po' più ristrette. Quindi il mio, non voglio essere un pessimista, mi metto tra i realisti ben informati, dovremmo in questa fase, in questa fase proprio che abbiamo le risorse, abbiamo anche un'unità politica intorno al governo, alla classe dirigente, concentrarci sulla missione politica nazionale, non perdere tempo con delle polemiche che lasceranno il tempo che trovano, cito sempre quella sulla legge elettorale che mi sembra quella più fuori dalla realtà di quello che stiamo vivendo, ma andiamo sul dunque, utilizziamo queste risorse per strutturare un'economia nazionale che sia forte perché poi nel tempo è un investimento per il nostro Paese che ritornerà. Approfitto del fatto che è un realista ben informato per chiederle anche di politica estera comune e politica di difesa comune, credo che si parli da decenni praticamente di questi temi, però sono tornati fuori più potentemente, anche come ha accennato lei, evidentemente anche in risposta ai fatti dell'Afghanistan, qual è il nodo, mi chiedo, perché questo continua a essere un monito, un appello, una petizione da ultimo della Germania in maniera più esplicita nell'ultima fase del cancellerato di Merkel, mi chiedo qual è il nodo e anche se lei pensa se ci sia alcuni fattori strutturali da rimodellare per avere l'Europa come soggetto politico anche a livello di difesa e politica estera? Guardi, io non penso che sia un problema né tecnico né di risorse, è un problema essenzialmente politico. Faccio un esempio, stamattina venendo qui ho letto un tweet della Ministra degli Affari Europei Ungherese, un'amica tra l'altro, che ha fatto un tweet dicendo abbiamo combattuto i sovietici, non ci piegheremo all'imperialismo di Bruxelles, che io spero che sia un fake perché dà la dimensione proprio sbagliata di quella che è l'Unione Europea oggi. L'Unione Europea è 27 paesi poi sollecitati e spinti dal Parlamento Europeo e dalla Commissione che ha la proposta d'iniziativa di scegliere in quale direzione andare. Un piccolo paradosso, l'Ungheria ha messo il veto su una dichiarazione politica estera che riguardava Hong Kong, per dire quanto l'imperialismo brussellese sia stato contrario, perché 27 paesi scelgono su alcuni grandi filoni come ho citato vaccini o next generation, di andare in determinate direzioni. La politica estera ha bisogno di unità, purtroppo c'è ancora l'unanimità e il diritto di veto, ma quella è una grande scelta politica e secondo me è essenziale, perché nel mondo di oggi non puoi chiudere le frontiere, tirare sui muri e pensare che il mondo attorno a te tutto sommato non ti dia fastidio. Quindi non vedo un problema né di competenze né di investimenti, ne faremo tanti adesso nei prossimi anni sulla cyber security, sull'intelligenza artificiale, l'industria della difesa inizia per la prima volta ad avere un bilancio appropriato nel bilancio europeo, è una scelta politica, perché dinanzi a tutti i fenomeni che vediamo dall'Africa all'Asia al Mediterraneo, muoversi insieme è qualcosa che è nell'agenda. Per undici anni abbiamo vissuto la tragedia siriana, il macello della guerra civile con una grande pila di statement dei ministri degli esteri europei, abbiamo vissuto i grandi sconvolgimenti del Mediterraneo in maniera completamente, in maniera divisa, la Libia è il caso più eclatante e fino a quello che è stato l'ultimo caso di agosto scorso è l'Afghanistan. Non è un problema di tecnica, non è un problema di risorse, siamo sempre un continente, uno dei mercati è una potenza globale, è un problema di scelta, scegliere di fare politica estera e io lo vedo e chiudo molto sul tema delle migrazioni, dico questo perché da giugno col governo Draghi siamo riusciti a cambiare un po' l'agenda dell'Unione Europea, a dire ma abbiamo la forza noi per andare nei paesi di origine transito prima che tante persone rischino la vita in mare come avviene al Mediterraneo, sulle rotte che si stanno aprendo, quelle dei Balcani o addirittura quella della Bielorussia che arriva fino all'est Europa, abbiamo la forza, abbiamo un bilancio che dedica quasi 80 miliardi nell'ambito degli strumenti di cooperazione, il 10% di questi 80 miliardi è definito solo per le migrazioni. Allora da giugno, siamo tornati due giorni fa da Bruxelles, la Commissione ha indicato otto paesi prioritari, per noi sono ovviamente Tunisia, Libia, Nigeria, per avere una politica di cooperazione, per avere una politica di investimenti, di aiuto a quei paesi da cui c'è origine e transito, ma questo è parte di una forma politica che come sulla politica estera e di sicurezza, come sulle migrazioni o noi decidiamo a 27 di uscire dai nostri confini e quindi non di dividerci sempre tra di noi, addirittura tra chi vuole tirare su dei muri e chi no, o il rischio vero è che saremo uno spettatore di quelli che sono gli squilibri globali come abbiamo visto agosto scorso. Le vorrei chiedere qual è, ma soprattutto quale dovrebbe essere il ruolo dell'Italia in questo scenario che ha disegnato, stiamo vivendo una congiuntura particolare all'interno delle forze europee, ovviamente la fine dei 16 anni di Angela Merkel come cancelliera, Macron e la Francia in una situazione anche particolare in questo momento, l'Italia con un Presidente del Consiglio inusuale e particolarmente autorevole, non c'è bisogno di ridirselo a livello europeo, qual è il ruolo che possiamo giocare in questo avendo sempre presente un'antica vocazione italiana di mediazione? Io credo che con questo governo siamo usciti da alcuni stereotipi tipici della politica estera negli ultimi anni, siamo passati da chi diceva andate a Bruxelles a sbattere i pugni sul tavolo, una delle definizioni più incomprensibili per me perché non ho mai capito dove li avessero sbattuti i pugni sul tavolo, a Bruxelles si va per proporre soluzioni, per vincere nei negoziati, non per urlare. Siamo usciti anche da questa idea di una contrapposizione con alcuni paesi e il SARS-CoV-2 ci ha dimostrato che essere da soli non porta a niente, il Presidente Mattarella usa sempre questa bella frase che dice ci sono in Europa paesi troppo piccoli per il mondo e paesi che non hanno capito che sono troppo piccoli per il mondo, perché lo vediamo adesso sui costi dell'energia, noi siamo un mercato da 400 milioni, 500 milioni, il mercato asiatico che sta tirando tutto il gas per la ripresa sono 4 miliardi e mezzo, quindi dobbiamo iniziare a avere le dimensioni che il nostro continente sia forte, sia una grande espressione di civiltà e democrazia liberale, ma si trova in un contesto in cui non era come 20 anni fa, in cui c'eravamo solo noi, noi siamo il 7% della popolazione mondiale, produciamo il 25% del prodotto globale lordo e spendiamo il 50% della spesa sociale mondiale, abbiamo dei numeri che nella nuova competizione hanno un po' di difficoltà a reggere, allora qual è l'approccio? L'approccio nostro è quello espresso dal Presidente Draghi già dalla prima seduta del Parlamento quando prese la fiducia, l'idea di sovranismo non ti porta a niente perché in questo contesto isolarsi non rafforza il tuo interesse nazionale, anzi lo indebolisce paradossalmente, quello che dobbiamo fare è avere un'idea di sovranità condivisa, l'identità nazionale di ogni singolo paese si condivide con gli altri partner per avere delle possibilità in più, come ho detto vaccini, next generation, difesa comune, politiche sull'immigrazione, questo ti permette di rafforzare la tua sovranità e la forza di ogni leader e io credo che Mario Draghi non debba io fare le giaculatorie, c'è una lista in Italia infinita, quello che deve fare e che sa fare, che lo ha fatto per tanti anni è far combaciare la difesa dell'interesse nazionale, quello che dobbiamo fare come paese, con un progetto comune, quando ci si siede al tavolo europeo non si sbattono i pugni, si fa comprendere che il tuo interesse e quello degli altri 26 se unito è molto più forte, la leadership viene fuori lì e io credo che il Presidente abbia tutti i caratteri, l'esperienza e la forza per in questa fase continuare a riformare l'Unione Europea che è quello che vogliamo tutti. La stampa, specialmente la stampa straniera, si è molto divertita a disegnare Mario Draghi come leader naturale dell'Europa dopo la fine dell'era Merkel, Draghi si è altrettanto divertito a smentire dicendo che l'Italia è l'Italia, la Germania è la Germania, chiunque sia al comando, però è un'ipotesi che a parte la suggestione dei soliti giornalisti ha un qualche senso in questo momento storico, cioè c'è un momento, una finestra di opportunità per affermare una leadership italiana che oggi porta il nome di Mario Draghi e poi si vedrà. Io guardo i dati, la Germania ha un nuovo cancelliere che sta formando una coalizione, la Francia entrerà a elezioni da qui a pochi mesi, elezioni presidenziali molto dure, combattute. L'Italia con l'autorevolezza del Premier può costruire punti di riferimento per le scelte che dobbiamo fare, il patto di stabilità e crescita è un grande tema, ritornano alla mente le definizioni di Romano Prodi sull'intelligenza di alcune procedure del patto di stabilità e crescita, dell'intelligenza ovviamente in senso opposto e quindi alcune grandi manovre si faranno, alcune scelte si faranno e leadership servono proprio a coagulare questo salto in avanti. L'Europa ha queste difficoltà, io non sono uno di quelli che subito si chiudono nell'euroottimismo è dura, i negoziati sono complessi perché ci sono 27 interessi nazionali che si devono collegare in una scelta comune, non è facile, non è assolutamente facile, ci abbiamo messo quasi 20 anni adesso grazie al G20 italiano per arrivare a mettere una tassa minima per le grandi corporazioni, quindi in modo da portare un po' di equità anche nella tassazione globale e che era un problema a livello europeo perché c'erano paesi in cui le imprese pagavano molto di meno, abbiamo un problema di dumping sociale, cioè di stipendi, di livelli di copertura, quindi le scelte si fanno in una complessità, in un negoziato perché comunque il fondamento, lo dico alla mia amica ungherese, non è una istruzione che arriva da Bruxelles, a Bruxelles ci si trova in 27 per negoziare e per trovare dei punti di equilibrio, quindi non c'è nessuna spectre che si nasconde alla Commissione, la Commissione spesso è subissata dagli interessi nazionali e in questo lavoro la necessità è appunto di avere leadership che portano avanti anche un disegno collettivo, poi io mi auguro che nel prossimo futuro le forze politiche europee si strutturino un po' di più, le forze progressiste per quanto riguarda me, vedo anche l'onorevole Meloni che è comunque Presidente di un partito europeo, c'è un dibattito vedo nella Lega, è importante comprendere che a livello europeo le forze politiche hanno dei legami che sono fondamentali e quelli aiutano, se devo essere onesto uno dei più grandi sostegni al next generation nella fase dura del negoziato sono venuti alle opinioni pubbliche, anche di quei paesi in cui i primi ministri magari erano scettici, io mi ricordo un incontro con il Presidente della Confindustria olandese che era totalmente a favore anche se il governo era uno dei negoziatori più duri, lo stesso in Germania e lo stesso in tanti paesi, quindi l'opinione pubblica italiana come europea ti porta a fare questi salti in avanti, queste riforme, queste tappe riformiste che sono fondamentali per gli interessi nazionali ma per l'interesse collettivo. Rimango agganciato a questo discorso ma lo vorrei portare a un livello ancora più alto se possibile, innalzandoci ancora un pochino di più, parlando dell'assetto geopolitico che si sta concretizzando in questi anni, anche sul giornale abbiamo proposto spesso in varie forme attraverso i nostri analisti l'idea che se il nuovo ordine mondiale, quello che almeno si sta in qualche modo confusamente delineando, delinea un mondo degli agili, cioè di alleanze che non si escludono fra loro, fatte in maniera trasversale rispetto alle grandi alleanze novecentesche, il caso di Ocus, cioè l'alleanza strategica e anche militare fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia fatta a sorpresa e con un leggero disappunto della Francia per usare un eufemismo, mi sembra un esempio interessante in questo, mi chiedo se lei vede questo mondo degli agili e delle alleanze che non si escludono fra loro, fra partner che hanno interessi comuni in alcune aree e che magari sono divergenti in altre ma ciò non impedisce di generare nuovi tipi di collaborazione e se sì, cioè se questa ipotesi ha una sua credibilità, se l'Italia non è un attore che potrebbe fare uso e avere buon gioco a far valere la sua agilità. Sì, io ringrazio domani perché è uno dei giornali più attenti a far riflettere, non ci sono delle chiavi di lettura oramai, neanche in teoria ho visto varie proposte, l'alleanza delle democrazie liberali, ci sono tante cose che girano in questo mondo di oggi ma è evidente che lo sconquasso del SARS-CoV ha accelerato alcune tendenze e le tendenze sono quelle innanzitutto di un rapporto tra Stati Uniti e Cina non con i toni dell'amministrazione Trump ma comunque di contesa, contesa soprattutto sul tecnologico perché la tecnologia digitale non è solo i social e il network, è come lavoriamo, come produciamo, come mangiamo, come vivremo, che tipo di democrazia avremo, quindi la forza del salto industriale che avviene tramite il digitale è uno dei più grandi temi, l'Europa partiva indietro, infatti investiremo molte risorse. Sicuramente ci sono attori che sono dimenticati, l'Africa per esempio, l'Africa è la nostra sorella per lo sviluppo dei prossimi cento anni e per questo spingiamo all'Europa per avere un'idea. Il Green Deal che noi stiamo costruendo e che è competitivo perché noi inquiniamo al 9% con il gas effetto serra mentre la Cina e l'India molto di più in Africa sarebbe la sorella ideale per costruire un Green Deal comune, per sviluppare tecnologie di economia sostenibile. Ma abbiamo visto anche che la tendenza dell'amministrazione americana, che ha sicuramente toni differenti, abbiamo recuperato su molti versanti accordi con l'Europa, ha comunque un'agenda che non lo porta a avere un'assertività nel globo, nel Mediterraneo e nel Medio Oriente come prima, perché l'idea del pivot to Asia di Obama si è tramandato poi da presidente e presidente fino ad arrivare alla presidenza Biden. Quindi la tendenza a un multilateralismo alla carta esiste, cioè scegliamo quelli che sono i punti che ci piacciono e su cui lavoriamo. Io credo che sia complicato, credo che sia invece più saggio ricostruire ponti di multilateralismo non nascondendo le differenze. La definizione di democrazia illiberale di Putin non è accettabile per noi. Allo stesso tempo l'ingaggio con la Russia e altri paesi è necessario. Le definizioni della Turchia di queste ore non sono accettabili per noi, ma è evidente che noi come potenza politica europea non possiamo chiuderci. Questa è una settimana importante e so che domani la seguirà molto perché c'è il G20, c'è la riunione del G20 proprio a Roma, presieduta a Mario Draghi, che è un punto di ricostruzione di un multilateralismo complicato in cui gli interessi nazionali delle grandi potenze si stanno organizzando e non sempre sono collaborativi, ma su cui non è accettabile avere solo degli elementi in comune. Non è possibile, secondo me non è fattibile. Uno potrebbe anche scegliere di dire interveniamo a livello globale solo quando ci interessa, ma non è più possibile. Io sono una voce un po' irregolare per esempio sull'organizzazione mondiale della sanità e lì c'è tutta la crisi delle Nazioni Unite, perché un organismo come l'OMS che di fronte alla più grande pandemia che la storia si ricordi negli ultimi due secoli è stata ostaggio, fatemi usare termini diplomatici, è stata un po' in imbarazzo, non ha gestito quella che è la più grande tragedia, ti dimostra che il livello multilaterale anche delle grandi organizzazioni va ripensato, va ripensato il G7, il G20, quindi è un grande sforzo e lo dobbiamo fare tutti insieme. L'Europa ha una sua carta d'identità, siamo un mondo che è orgogliosamente a difesa dell'idea di democrazia liberale, di diritti, non siamo quelli che esportano la democrazia con le armi, abbiamo dei valori su cui poter ricostruire e abbiamo anche dei competitori o degli altri attori che non la pensano come noi. Ma in questa fase io non credo che sia possibile chiudersi in casa e pensare che tanto non verranno mai a bussarci alla porta perché è proprio l'opposto e lo abbiamo vesto, lo vediamo ogni giorno e lo vedremo dal punto di vista economico, dal punto di vista delle migrazioni che è il fenomeno diciamo quello più che muove le opinioni pubbliche ma sono tanti i fiumi su cui noi saremo intercettati. Solo una battuta sul G20, è un G20 senza la presenza di Xi e di Putin in presenza leggermente depotenziato? No, è un G20 che secondo me alcuni elementi porta già a casa, quello più importante è quello della tassazione, il G20 di Venezia. Abbiamo finalmente messo una regola ferma a livello globale, in questi tempi di Pandora e di scandali, abbiamo un'architettura finanziaria che si può ricostruire anche dando più diritti e anche dando più certezze. Il lavoro sul G20 fatto a Napoli, sull'ambiente è importante, adesso si aprirà la COP26 che sarà una maratona negoziale fondamentale per cercare di arrivare a una neutralità climatica in tempi non troppo remoti perché quello della sfida dell'economia sostenibile non è un'ipotesi giornalistica, è una necessità storica, non è un se, è un come lo dobbiamo fare, che è molto importante e lo dobbiamo fare tutti insieme perché una città grande dell'India produce più inquinamento di un paese piccolo medio europeo, quindi è un tema globale che si dovrà affrontare. Si è fatto un G20 sull'Afghanistan molto importante proprio per non dare il senso di questo disarmo morale ma vedere come dopo tanti anni di sacrifici, di persone, di italiani che hanno pagato con la vita il lavoro per ricostruire quel paese, oggi tutto questo non vada in fumo. Quindi io credo che ci sono alcuni già punti messi in campo e questa chiusura sicuramente nella battaglia negoziale delle ultime ore ovviamente potrà segnare anche altri punti in avanti. Ha toccato un tema prima che mi pare faccia da sfondo a tutto quello che stiamo dicendo che è quello del disimpegno americano. Mi pare che in estate lei abbia fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui cito, parlando di Biden, dice almeno il terzo presidente americano di seguito a scegliere i propri impegni geopolitici in base a priorità strettamente nazionali. Ignoro perché questo non si è precipitato nel titolo dell'intervista, ma a parte questo mi sembra un'affermazione interessante, importante, smonta anche un po' la ricostruzione più comune, cioè la grande anomalia trampiana è quella che ha portato un principio nazionalista dentro una storia che correva invece in un senso multilaterale e globale. Invece lei sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che questa è una tendenza di lungo periodo che già vediamo dai tempi di Obama. Se può dire una cosa su questo? Sì, lo confermo, ma sta negli atti. Presidente Obama dal Medio Oriente si è ritirata dal teatro di guerra iracheno, in quel caso saggia perché fu una guerra che ha aperto la tragedia che poi abbiamo visto per anni e anni, soprattutto quello dell'insorgenza islamista, ma il ritiro dalla Siria è stato, il ritiro o meglio, il ripiegarsi dal Medio Oriente è stato anch'esso conclamato e lo stesso è avvenuto in conseguenza con l'amministrazione Trump, cioè ci sono delle linee nella politica estera americana, io capisco che i personaggi sono differentissimi e ovviamente alcuni producono più simpatia, altri no, ma che si portano avanti. Il ritiro dall'Afghanistan è figlio dell'accordo di Doha fatto da Mike Pompeo, amministrazione Trump con i talebani, portato poi a conseguenza dall'amministrazione Biden, per una tendenza nella politica americana a guardare a una ricostruzione di un interesse nazionale, a una competizione che avanza ed è sempre più forte verso l'Asia, verso il gigante cinese e ha una tendenza a non essere più, a non considerarsi più il gendarme militare in giro per il mondo. Ora, alcuni aspetti positivi ci sono, io continuo a pensare però che nel mondo complicato e turbolento di oggi, dove non ha vinto quell'idea degli anni 90 dell'espansione della democrazia in tutti gli angoli del mondo, che era un'idea un po' ideologica che non ha portato a niente, forse sia il caso, non dico di riarmarsi, figurarsi, ma comunque di avere la testa rivolta al fatto che in alcuni angoli del mondo quello che succede ha degli effetti diretti. Io faccio un esempio semplicissimo, quando guardo i dati dell'immigrazione in Italia guardo sempre l'origine da dove vengono questi migranti, paese per paese, oggi in Italia si leggono i numeri, ma bisognerebbe vedere da dove vengono, qual è la situazione, c'erano dei paesi negli ultimi dieci anni che producevano, sulle rotte producevano tanti migranti, che erano frutto di collassi, non parlo solo della Siria, del caso siriano, parlo di molti paesi africani, c'era a un certo punto il Gambia, che era uno dei paesi da cui venivano più migranti in Italia, perché quella dittatura stava saltando in aria, per fortuna poi è crollata, quindi la lettura del mondo non può essere troppo asfittica, chiusa nella propria dimensione domestica, non solo perché non è giusto per i valori a cui io credo, ma questi sono opinabili, ma perché poi al dunque non difende il tuo interesse nazionale. Mi sono tenuto per ultima una domanda sulla cronaca di queste ore, sapendo di uscire dalla sua stretta competenza, ma è evidente che la mossa di Erdogan di ritirare dieci ambasciatori che avevano firmato, riassumo brevemente, un appello per la liberazione di un filantropo, Osman Cavala, che è detenuto dal 2017 in Turchia, appoggiandosi peraltro su una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ne sanciva il rilascio, certo questo denota direi abbastanza un salto di qualità nelle relazioni e non credo ci sia un precedente a memoria che possa andare di un paese, ricordiamo, membro fondatore della Nato, guidato da un dittatore con cui pur bisogna collaborare per citare una fonte autorevole. Io sulla Turchia mi sento un po' uno sconfitto, lo devo dire francamente, c'è stato un tempo in cui in Italia, soprattutto al centro-destra, di più si spingeva per l'idea di allargamento anche alla Turchia, la Turchia è tuttora un paese candidato. Mi ricordo viaggi, mi ricordo anche un Erdogan, leader dell'HP, che era il fronte pro-europeista rispetto all'opposizione socialista che addirittura non vedeva di buon occhio. Negli anni tutta questa storia sta girando in maniera completamente diversa, anche il Parlamento italiano ha trovato per la prima volta negli ultimi mesi tra centrodestra e centrosinistra una ferma condanna di alcuni atti, dall'uscita dalla Convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne, altri atti rispetto alle opposizioni interne, c'è l'HDP, il partito filocurdo il cui leader è in galera da tanti anni e altri atti dovuti a una logica dell'emergenza. Ora io non intervengo in un territorio non mio che è quello della Farnesia, il Ministero degli Affari Esteri su cui pesano le scelte in questo versante, però quella sensazione che ho io, conoscendo un grande paese come la Turchia, un paese in cui la lotta politica è anche molto forte e sarà molto forte nei prossimi mesi, è un po' un'amarezza perché la prospettiva, non dico di allargamento e di membership dell'Unione Europea immediata, ma su cui si stava lavorando, vede in questi atti un modo anche molto complicato di avere un dialogo costruttivo. Il dialogo costruttivo si ha quando c'è il rispetto, spellere dieci ambasciatori di cui molti europei non credo che sia un qualcosa che faccia ben sperare, ma su questo mi rimetto al collega Di Maio che sarà sicuramente più assertivo. Solo una domanda su questo, senza rubare il lavoro Di Maio, ci racconta anche una certa sbrigliatezza e assertività con cui Erdogan si permette certi atti di una difficoltà generale dell'Occidente a tenere la barra dei diritti umani come criterio, come uno dei criteri fondamentali con cui orientare la sua politica estera. Sì, no, dicevo anche prima, c'è un dibattito, c'è una lotta politica, alcuni leader politici lo dicono chiaramente, l'ha detto Putin, interviste, l'ha detto Erdogan, figurarsi anche altri esponenti purtroppo membri dell'Unione Europea, c'è questo fastidio quasi per le democrazie liberali, ma l'ho spiegato, esplicitato, ci sono anche in Italia sostenitori di queste teorie, che si starebbe meglio, si vivrebbe meglio se la democrazia non avresse tutti questi contrappesi, gente che urla, giornali che parlano, esponenti politici che chiedono i diritti umani, questa è la cosa più bella, perché questo internazionale sovranista a me fa ridere, perché poi come si fa a mettere insieme tutti i sovranisti che ognuno dovrebbe difendersi a casa sua contro l'altro, io non l'ho mai capita, ma questa tendenza c'è stata e c'è stata anche una tendenza, diciamolo, dalle classi dirigenti europee e occidentali a non reagire con forza, ma non perché noi siamo il migliore dei mondi possibile, questa illusione non l'ho mai avuta, ma perché comunque di fronte a delle sfide siamo più forti come democrazie liberali. Guardate il SARS-CoV-19, il rapporto con i cittadini, l'informazione, la libertà di informazione è un qualcosa che ha aiutato le comunità a venire fuori, quelli che l'hanno negato non hanno dei numeri non solo buoni in termini di vaccini, ma anche in termini di ripresa della forza, della speranza dopo il SARS-CoV-19. Quindi io, al dunque, alle prove dei fatti, io credo che questa malandata democrazia liberale, dove si rispettano i diritti umani, le libertà di informazione, dove ci sia scontro politico, legittimo sia sempre meglio di queste teorie che negli ultimi anni sono volati per un ranio politico, anche qui in Italia, che il sovranismo e la democrazia liberale funzionasse di più. Non ci credo. Non mi resta che ringraziarla. Grazie mille Vincenzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza, per aver condiviso la sua opinione di realista ben informato. Mi è piaciuta questa definizione che riutilizzerò. E introduco così anche il prossimo incontro, che è il sindacalista dei personaggi dei romanzi, discorsi sulla letteratura. Interverranno lo scrittore Tiziano Scarpa, introdotto dal nostro Beppe Cottafavi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.